La mia scelta per gli Oscar è un libro degli Oscar gialli, della collezione Oscar gialli, da giallista non potevo che fare questo. E scelgo un autore italiano, Diego Lama, che secondo me è un autore nuovo, ma che colpisce tantissimo, colpirà tantissimo il pubblico. Ha scritto due romanzi, La collera di Napoli era il primo che ha vinto il premio tedeschi del Giallo Mondadori, questo è il seguito, sceneggiato di morte. Ha per protagonista un commissario di polizia nella Napoli del 1800, il commissario Veneruso, un personaggio tutto particolare, davvero molto napoletano. E questa napoletanità emerge, come emerge il personaggio, come emerge dall'autore e come emerge da tutto il mondo che questo è riuscito a costruire. Bene, Diego Lama, secondo me è una bellissima promessa del Giallo Italiano e credo potrebbe piacere a tanti.